No, la sto riprendendo in diretta, via cellulare, siamo già in diretta. Come mai è venuto qui stasera? Come mai sono qui stasera? Sono qui per questa bandiera del Partito Democratico. Cosa spera lei dal Partito Democratico? Eh? Cosa spera dal Partito Democratico? Spero esattamente quello che ha detto Daltrone, cambiare il nostro paese. Senta, ma il Partito Democratico si propone come nuovo, però in realtà ci sono tante persone, ex PS, della vecchia guardia. Non vuol dire niente, è la proposta che è nuova. Se continuiamo a ragionare in termini di uomini adattano, vuol dire che non sia capita niente. C'è una proposta politica nuova, finalmente valida per l'Italia. E io mi auguro che fassi questa proposta, perché è l'unica seria che c'è secondo me. Non ha mai pensato di votare per Berlusconi, popolo della libertà? Assolutamente, non ci penso, assolutamente. Se c'è uno legato alla mafia e non so come ha fatto a fare i soldi, è proprio lui. Grazie. Prego, rivediamo.